La salute mentale si narra, sindaco, il festival torna dal 31 agosto al 2 settembre. Da chi è organizzato e perché è proprio a Monbaroccio? Ringrazio Cooperativa Alfa che ha collaborato nell'organizzazione di questo evento, che è la seconda edizione, la facciamo nel centro storico, il chiostro comunale adiacente alla piazza. Naturalmente invito tutti a partecipare perché è un argomento estremamente sentito. Perché Monbaroccio? Perché Monbaroccio è legatissimo a quello che è il percorso di salute mentale. Noi abbiamo una struttura che è l'RSA Bricciotti che di fronte porta maggiore e che si collega in totos a quella che è la mia realtà. Un ospedale psichiatrico negli anni 70-80 che aveva una forza specifica, era conosciutissimo a livello nazionale, sia perché si applicavano anche le prime pet therapy, quella volta che erano un'evoluzione, ma soprattutto perché i nostri pazienti non erano definiti pazienti, ma erano definiti ospiti e condividevano la realtà dell'RSA Bricciotti all'interno del borgo. Quindi quelle che erano strutture manicomiali, quelle stranze bianche, quelle camicie bianche di cui si racconta, non erano parte e componente di quella che era la realtà monbaroccese. Bensì i nostri ospiti giravano per il borgo, condividevano i locali, condividevano la parrucchieria, condividevano il bar e c'era una sinergia socio-sanitaria che permetteva a queste persone di vivere una realtà al di fuori di quello che era l'aspetto sanitario, ma condividere un aspetto sociale che permetteva loro di diventare uniche e speciali anche per noi concittadini. Questo è perdurato nel tempo e oggi quando arrivano queste iniziative da proporre sul territorio non posso che non accoglierle, anche perché sono argomenti sentitissimi nel piano socio-sanitario, l'argomento è trattato tantissimo, l'abbiamo trattato con l'Università di Urbino, con l'IRCA, con l'ASUR, con tutte quelle che erano le componenti atte a valorizzare questi circuiti. Se è vero è che dobbiamo parlare di una sanità territoriale, quella legata alla malattia mentale è un percorso che va affrontato e che non riguarda la singola persona, ma riguarda la famiglia in tutto e per tutto. Abbiamo fatto delle proposte nel legare la struttura RSA Bricciotti in un'ottica di recupero della struttura stessa a fronte di quello che è un percorso legato alle demenze e il borgo circostante, per creare quella sinergia che allora funzionò e che credo che oggi possa ancora più funzionare a fronte di quella che è un percorso digitale e di telemedicina che può essere affrontato nella mia splendida realtà. Daniela, dove e a che ora si svolgeranno queste serate? Qual è il programma? Ore 19 al Chiostro di San Marco di Monbaroccio. Le serate iniziano il 31 agosto, grazie al contributo del documentario di Paolo Ruffini, perdutamente, il tema generale è l'Alzheimer e sarà preceduto dal contributo della dottoressa Susanna Cipollari ed Emanuele Petrucci, il sindaco, dove sviscereremo l'argomento sull'Alzheimer. La seconda serata sarà il primo settembre, sempre partenza dei lavori ore 19, dove ci sarà anche una presentazione del libro di Maddalena Caprara che si chiama Mi chiamo Davide, dove è seguito dal cortometraggio, mi vedete, presente al Gifone Fist Festival 2021. Il tema generale della serata è l'adolescenza e grazie al contributo della dottoressa Maria Elena Ridolfi cercheremo di capire quali sono le dinamiche oggi dell'adolescenza e quali sono le problematiche. La terza serata invece sarà il 2 settembre e si prenderà spunto dal documentario La città che cura di Enrico Rossi, dove si cercherà di parlare dell'aspetto del lavoro di rete, quanto è fondamentale oggi lavorare in rete sia per quanto riguarda il sistema sanitario ma anche per quanto riguarda il sistema sociale. E qui ci saranno presenti Dimitri Tinti, Paolo Luca Pandolfi, che sono assessori sia di Pesaro che di Fano e Vito Inserra, presidente della fondazione Liberamente, dove qui cercheremo di capire appunto con loro quanto è importante collaborare insieme. È necessaria la prenotazione? No, l'ingresso è libero quindi potete venire numerosi e recolgo l'occasione per ringraziare anche tutti i patrocini e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna.